Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi andrò a parlare di una nuova razza che è arrivata in allevamento e questa razza è la gallina della ritirata ma prima di vedere questi animali vi ricordo di lasciare mi piace e attivare la campanellina del canale per supportare il video e per supportare il mio canale andiamo a vedere direttamente gli animali questi sono gli animali in questione e sono nel box che ho al primo recinto al pascolo quindi e stanno qui diciamo di notte e durante una parte del giorno e poi il resto del giorno escono al pascolo se vedete la lettiera è un po' umida perché in questi giorni c'è stato un po' di pioggia finalmente e quindi giustamente la lettiera è un po' umida comunque come vi avevo già mostrato in uno scorso video nella zona notte di questo pollaio c'è questa copertura in legno che non fa entrare l'aria e gli animali possono stare sui posatoi mentre poi hanno questa parte che è tutta in rete che in modo tale che prendono abbastanza luce e anche c'è un buon ricircolo d'aria ma andiamo a parlare degli animali nel dettaglio qui c'è un trio composto da un maschio e due femmine mentre poi dopo vi mostrerò ho anche un altro gallo che serve nel caso come riserva al posto di questo gallo qui questo gallo ha un'età più avanzata rispetto all'altro gallo che vedrete dopo però comunque è stato scelto lui perché ha delle caratteristiche migliori comunque per la selezione quindi per ora verrà utilizzato lui mentre per quanto riguarda le femmine abbiamo due colorazioni differenti proprio per selezionare diciamo caratteri differenti e per avere più possibilità diciamo nei nuovi individui che nasceranno nella nuova prole ringrazio Nicolò del giardino di Pitt lo potete trovare sugli altri social con questo nickname che mi ha ceduto questi animali per continuare diciamo il progetto di selezione di questa razza e per andare poi a lavorare anche su nuovi caratteri che speriamo che fuoriusciranno da questi animali lo ringrazio davvero tanto perché mi piaceva molto questa razza e anche tutti i colori e le caratteristiche che ha e diciamo la stavo notando da diverso tempo tra i suoi post e proprio tra le immagini che c'erano su internet in generale e lui mi ha dato la possibilità di avere alcuni di questi suoi animali che mi ha ceduto e quindi lo ringrazio molto per questo passaggio di animali e in più per anche tutte le informazioni che mi sta fornendo e tutti i consigli che mi sta fornendo per la selezione di questi animali quindi se volete saperne diciamo di più su questi animali e sulle loro caratteristiche vi consiglio di seguire il suo profilo vi lascio qui il nickname il giardino dei Pitt così proprio lui ne parla nel dettaglio e sicuramente sa anche molte più informazioni di me visto che le alleva da molto più tempo questi animali adesso torniamo a vedere nel dettaglio gli animali ho questi animali già da diversi giorni circa un mese e hanno già iniziato la deposizione una delle due femmine quindi poi più avanti procederemo a incubare le uova per schiudere nuove prole e quanto riguarda questi animali sono molto docili nei comportamenti giustamente perché sono abituati al comitato umano visto che l'allevatore che li aveva prima ci tiene molto agli animali e quindi ha anche molto contatto con gli animali quindi mi sto trovando davvero tanto bene perché non hanno timore delle persone si fanno prendere facilmente anche quando vado a cuodire gli animali non si spaventano quindi questo facilita di molto il lavoro e comunque anche la selezione controllare gli animali tutte cose molto essenziali per l'allevamento mi sto trovando anche molto bene mi piacciono molto anche per diciamo la loro rusticità se così si può dire perché sono anche nei movimenti nei comportamenti molto animali diciamo nella norma e poi anche a livello della deposizione per quanto riguarda la femmina che per ora sta deponendo hanno anche una deposizione costante e poi mi piacciono molto comunque e ho deciso di scegliere questa razza per diciamo le tante caratteristiche che hanno diciamo a livello di piumaggio, colori, cresta e quindi sono secondo me degli animali veramente belli a mio parere e quindi ho deciso di intraprendere il loro allevamento comunque hanno una stazza considerevole nella norma e quindi hanno sia una buona stazza ma hanno da quello che sto vedendo sempre dalla femmina che per ora ha iniziato una buona deposizione quindi questo lo rende anche un'ottima razza su tutti i punti di vista questo è l'altro maschio di cui vi parlavo che è ovviamente in un altro box in modo tale che non può andare a contatto con l'altro e quindi non si può causare del male diciamo con l'altro magari combattendo e quindi viene tenuto in un box in modo tale che non stai a contatto con altri galli e nel caso poi lo dovremo utilizzare nella produzione lo utilizzeremo per quanto riguarda l'alimentazione di questi animali oltre al mangime diciamo adatto per la deposizione proprio appropriato vado ad integrare anche la loro alimentazione con un misto di granaglie che hanno a disposizione durante il giorno in modo tale da poter integrare al meglio la loro alimentazione e così hanno anche un'alimentazione più variegata e poi hanno a disposizione il pascolo che gli permette di mangiare insetti tutto quello che trovano nel terreno spero che questo video vi sia piaciuto se è così potete farmelo sapere lasciando un mi piace qui sotto e commentando il video se avete alcune curiosità o domande a cui vi risponderò direttamente o qui o in un prossimo video e potete anche seguire e attivare la campagna mia nel canale per vedere un mio prossimo video da me e questa nuova razza che è arrivata in elevamento è tutto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti